Ciao a tutti ragazzi, sono Make-A-Wish e se siete nuovi su questo canale vi spiego un attimino chi sono e cosa faccio. Io sono un collezionista e venditore di carte Pokémon e sul mio canale ogni settimana porto sempre nuovi video relativi a tutte le carte nuove che mi arrivano, certe volte le carte che vendo durante la settimana e tanti piccoli tutorial per collezionisti e venditori o aspiranti venditori proprio come me. Bene, oggi ho preparato un tutorial anche per rispondere a tante domande che ultimamente mi stanno arrivando via Instagram e nei commenti. Infatti andremo a vedere esattamente quali sono i costi che un venditore di carte Pokémon deve sostenere su Ebay. Io mi sono preparato una piccolissima presentazione da farvi vedere mentre parlo così non perdo il filo del discorso come mio solito. E quindi appunto andremo a vedere quali sono i pro di vendere su Ebay, quali sono i contro di vendere su Ebay, i veri e propri costi, quindi di spedizione, tutte le tariffe, tutti i costi che appunto si sostengono per vendere le carte Pokémon. Poi andremo a fare anche un esempio proprio numerico così vi faccio capire tutte le varie problematiche. Detto questo insomma partiamo subito e partiamo dai pro. I pro assolutamente di Ebay rispetto ad altre piattaforme è che ci sono tantissimi utenti che in ogni momento cercano carte Pokémon. Io veramente vendo carte Pokémon a tutte le ore, certe volte mi sveglio la notte con un email alle 4 di mattina che ho venduto una carta appunto, quindi veramente Ebay non va mai a dormire, c'è sempre qualcuno pronto ad acquistare le tue carte e quindi sicuramente è un'ottima piattaforma per partire. Poi è anche molto facile nella compravendita, quindi per esempio non so se avete avuto modo di comprare o vendere carte magari su subito.it o su Facebook, su gruppi Facebook, la compravendita è sempre più un problema perché devi sempre parlare con il potenziale acquirente. L'acquirente ti dice che magari non gli va bene il prezzo che gli fai. Su Ebay questo non esiste assolutamente, ovvero non esiste quasi assolutamente perché ci sono i messaggi, si può scambiare messaggi, però il 99% delle volte un acquirente, un cliente, una persona interessata, un collezionista vede la tua carta e compra subito e Ebay ci pensa tutto, cioè ci pensa Ebay praticamente a dirti che hai venduto quella carta e che la devi spedire entro un certo limite di tempo. Quindi insomma, compravendita, molto molto facile, se non hai voglia di perdere tempo come molte volte succede con i vari acquirenti vai su Ebay e fa praticamente tutto lui. L'altra cosa abbastanza bella è che su tutte le tue inserzioni per le tue carte puoi attivare le proposte di acquisto, ovvero accanto al tastino compra subito, c'è, apparirà un secondo tasto che dà la possibilità appunto ad altri collezionisti di fare una proposta di prezzo. Quindi magari appunto se volete assolutamente vendere una carta e quella carta è mesi, mesi e mesi che non vende a quel prezzo, magari appunto attivando le proposte qualcuno, un potenziale acquirente potrebbe provare ad offrirvi un pochettino di soldi in meno rispetto al vostro prezzo, però appunto è un metodo in più che Ebay dà a noi venditori per provare insomma a vendere tutte le nostre carte molto più velocemente. Più o meno questi sono i pro, andiamo adesso a vedere quali sono i contro. I contro di Ebay sono quelli che leggete proprio qui, le tariffe sono molto molto alte e quello magari lo andiamo a vedere nel prossimo, nella prossima slide che ho preparato. Le tariffe comunque sì, ci sono tanti costi e certe volte è anche difficile capirli, specialmente se non siete, se non avete molta dimestichezza con la piattaforma. Poi succede molto molto spesso che magari fai un'asta, fai più aste o qualcuno ti propone un prezzo, tu glielo vendi a quel prezzo e alla fine queste persone spariscono. Succede un bel po' di volte e in quel momento appunto hai perso, anche in questo caso, abbastanza tempo perché in tutto questo tempo che la tua carta è stata venduta, questa persona se ne era completamente disinteressata e tu hai perso tutto il tempo di farla vedere appunto ad altri potenziali acquirenti lasciandola in vendita su Ebay. E poi c'è il rischio controversie. Cosa sono le controversie? Praticamente le controversie sono, è un metodo che Ebay ha creato per tutelare gli acquirenti. Ovvero, se una persona ti paga con Paypal, cosa che se volete vendere su Ebay dovete assolutamente farvi Paypal se no non verrete mai presi insomma come insomma venditori legittimi. Tramite Paypal appunto, se un acquirente vende, scusatemi, compra tramite Paypal questo ha la possibilità di chiedere un rimborso nel caso che effettivamente le carte che gli ha inviato non sono mai arrivate oppure sono arrivate danneggiate, sono arrivate come non ci si aspettava e come l'acquirente non si aspettava e quindi lui pagando tramite Paypal lui ha tutto il diritto di chiedervi un rimborso. Questo è un grosso problema, stiamo parlando che proprio oggi mi sono arrivate due controversie di due carte che effettivamente sembra che non siano arrivate e non si può far nulla che accettare e rimborsare queste persone. La cosa brutta è che una persona magari non tanto a posto potrebbe potrebbe far finta di non ricevere la carta e dirvi che appunto vuole un rimborso. Comunque io diciamo io vendo su ebay da quasi un anno ormai e di controversie me ne sono state aperte sei in totale quindi ragazzi c'è può accadere però non accade poi così spesso. Andiamo avanti e parliamo di costi effettivi per ogni vendita. Allora ai costi di ogni vendita ovviamente bisogna associare le spese di spedizione per spedire la carta. Io spedisco la carta in posta 4 che costa 1,10 euro e questo è il tipo di spedizione meno costoso però è anche quello che non è assolutamente tracciato. Quindi c'è più rischio che la carta si perda e non avrai mai quel codice da dare al cliente che appunto stabilisce che effettivamente la spedizione è stata fatta e che quando viene consegnata che la spedizione è stata a tutti gli effetti consegnata. Poi c'è posta 1 posta 1 parte da un minimo di 2,80 euro e questa è leggermente tracciata quindi vi rilascia un codicino e questo codice traccia semplicemente il fatto che tu hai inviato una carta e l'acquirente l'ha ricevuta al momento della ricezione e poi c'è la raccomandata che parte da una base di 5,50 euro. Tutte queste opzioni di spedizione io le inserisco in tutte le mie sezioni su ebay e poi è il cliente, è l'acquirente che decide quale scegliere. Poi c'è la tariffa di ebay che è una cosa pazzesca. Sia tariffa di ebay che tariffa paypal comunque viene applicata sul prezzo totale di vendita quindi il prezzo che hai assegnato alla carta più il prezzo, più le spese di spedizione. La tariffa di ebay è il 10% su tutto quindi se il prezzo totale appunto è di 10 euro ebay si mangia 1 euro se il prezzo totale è di 100 euro ebay si tiene 10 euro. E poi se ciò non bastasse c'è anche la tariffa paypal che su ogni vendita, su ogni costo finale si prende circa il 3,4% che non sembra tanto però se lo sommi al 10% iniziale qua stiamo parlando di quasi di quasi un 15% del tuo costo finale che se ne va via. Quindi capite che non è sempre non è sempre non è sempre facile farsi i conti bisogna un attimino vendere, vendere, vendere e iniziare a capire già all'occhio quanto riesci a guadagnare con i vari prezzi che hai intenzione di mettere sulle tue carte. Adesso arriviamo all'esempio numerico che magari vi aiuta un attimino di più. Quindi facciamo finta che noi abbiamo venduto una carta per il prezzo di 10 euro e la spedizione in posta 1 l'abbiamo l'abbiamo insomma segnalata come 2,80 euro quindi il costo il prezzo totale di vendita sarà 12,80 euro quindi quello che ci arriva già su paypal subito è 10 12,80 euro meno 45 centesimi che è la tariffa di paypal che viene subito tolta poi il 10% di 12,80 euro è 1 euro e 28 centesimi che verranno tolti successivamente a fine mese e poi ovviamente bisogna togliere anche i 2,80 euro di spedizione che che appunto dobbiamo dobbiamo spendere per mandare la carta all'acquirente dunque di questi 12,80 euro in tasca ci rimangono 8 euro circa ovviamente 8,67 euro quindi capite che da 12,80 euro arrivare a 8,67 comunque già vi rendete conto come come non sia proprio tutta questa tutta questa bellezza ci sono tanti siti il primo di tutti è card market che su tutti su tutto il prezzo card market si tiene il 5% e basta in questo caso appunto sarebbe stato molto molto il prezzo il prezzo finale che ci rimane in tasca sarebbe stato molto molto più più alto più o meno più o meno questo è tutto ed è anche per questo appunto che io cerco sempre di accordarmi fuori da ebay perché secondo me appunto ebay è un posto fantastico per conoscere nuovi clienti ma una volta che tu gli hai fatto la prima spedizione la prima spedizione a questa persona mi piace sempre lasciare un biglietto all'interno della busta lasciando tutti i miei i miei contatti così magari la prossima volta che vede qualcosa su ebay mi fa mi manda mi manda un e-mail o mi scrive su instagram ci accordiamo al di fuori di ebay e magari riesco appunto a fargli un 10 euro un 10 euro un 10% di sconto sulla sulle carte perché appunto non avrei nessun tipo di tariffa questo più o meno è è un po' tutto è una piccola una piccola presentazione di cosa effettivamente vuol dire vendere carte su ebay e come vi ho detto appunto per qualsiasi domanda e commenti vari potete sempre scrivermi o nei commenti o su instagram o via mail se siete rimasti con me fino adesso intanto vi ringrazio vi chiedo di lasciare un mi piace di iscrivervi se non l'avete ancora già fatto e soprattutto di ritornare a trovarmi nei prossimi video per oggi è tutto e ci vediamo la prossima volta ciao ciao ciao